l'alba sta sorgendo salutate il nuovo giorno qui in questo video non parlerò di nessun argomento specifico ma è semplicemente un video di update cioè un video in cui vi aggiornerò sulle novità del canale la prima grande novità è infatti infatti è che voglio inaugurare la rubrica q&a cioè questions and answers domande e risposte in questa rubrica proprio come dice il nome voi mi farete delle domande e io risponderò per cui invito subito chiunque a fare tutte le domande che volete qua nei commenti io andrò a leggere le domande che avete fatto le selezionerò sulla base di vari parametri per esempio se so rispondere o no se non so rispondere naturalmente non potrò rispondere e fare un video a riguardo se invece posso rispondere so la risposta e ritengo qualcosa interessante che possa garantire un bel video allora prenderò quella domanda e risponderò per cui ripeto se avete una domanda per me se volete che io risponda a qualche domanda qualche dubbio che avete vi prego di scriverlo qua sotto nei commenti e potete farmi domande su qualunque cosa vogliate non deve per forza trattare di scienze tecnologia qualcosa del genere potete anche chiedermi di raccontare storie del tipo il tuo primo bacio o qualunque cosa vi venga in mente anche qualcosa di divertente così approfittiamo di questa cosa magari per ampliare i contenuti della pagina e parlare anche di cose che riguarda la società o parlare di storielle divertenti eccetera eccetera comunque seconda rubrica che forse inaugurerò si tratta di la rubrica chiamata pillole o tip in pratica saranno video brevissimi tipo di un minuto o due minuti in cui parlerò di un argomento nel modo più breve possibile senza spiegarlo ma solo dando la risposta se voglio fare un esempio del tipo faccio un video intitolato qual è il migliore integratore per la salute della pelle o meglio qual è il migliore integratore contro le rughe e nel video dirò salve qual è il migliore integratore contro le rughe è il premienolone e basta semplicemente magari dirò però due nozioni ma senza andare in profondità faccio questo video per due motivi uno per magari riuscire a mantenere aggiornato il canale anche quando sono via per cui magari posso registrare qualche video breve tutto in un colpo tutto in un giorno e poi vi carico e programmo la pubblicazione per il weekend io venerdì il sabato domenica sono a farmi fatti miei e a divertirmi e a far festa io programmo per il venerdì il sabato la domenica questi video che usciranno solo per tenere caldo il canale o inoltre il secondo motivo è riuscire a avere una risposta veloce a qualcosa se per esempio uno tra qualche mese ha una domanda e dice ma cosa ne pensa francesco di sta cosa o magari ha già visto qualche video più approfondito in passato ma vuole solo la risposta veloce perché gli manca lo scrive su youtube dice tipo francesco rughe e viene fuori il video miglior prodotto per le rughe pre nianolone veloce così inoltre ci sono altre serie di cui voglio parlare una è quella riguardo al p i penis enlargement cioè tutte le tecniche per ingrandire il proprio pene perché è veramente possibile e non è neanche così difficile per niente un'altra serie è quella riguardo proprio la libido il sex drive in cui andrò ad approfondire ad affrontare in maniera approfondita questo argomento con vari prodotti integratori cibo stile di vita eccetera infine voglio parlarvi di un problema che affronta il canale ogni tanto in tanti tanti miei video vengono demonetizzati cioè non posso mettere le pubblicità e non guadagno soldi il problema in sé non è il non guadagnare soldi che dici vabbè perdo un paio di euro pace naturalmente se guadagno via solda video che faccio tanto tanto meglio no perché impiego tempo risorse a comprare la macchina a mettere le luci ho preso la ring light e spero di avere una luce migliore adesso eccetera eccetera e naturalmente è un investimento per il futuro è il canale ancora estremamente piccolo lo seguono quattro gatti ma quattro gatti a cui va tutta la mia gratitudine per seguire e vi apprezzo veramente tanto tutti i commenti carini che fate sotto i miei video comunque dicevo il problema principale non è la demonetizzazione ma il fatto che una volta che il video viene demonetizzato cioè io non posso mettere le pubblicità l'algoritmo di youtube lo trascura totalmente per cui quel video finisce per sparire e non essere più visto da nessuno al contrario un video monetizzabile cioè con le pubblicità youtube ha l'interesse di farlo vedere più gente possibile così ci sono più entrate anche per youtube no in questo caso non è possibile e ho visto che praticamente ogni video in cui c'è la parola testosterone da qualche parte viene demonetizzato anche se rispetta tutte le linee guida per esempio nelle linee guida c'è su scritto che se si parla in modo didattico di una cosa senza glorificarne l'uso e senza incentivare le persone all'uso è monetizzabile invece me li demonetizzano sempre e purtroppo questo blocca fortemente la crescita del canale perché se nessuno viene video se non vengono proposti a nessuno questo canale non cresce se invece avessi fatto un video stupido in cui magari vado in giro a intervistare le persone in discoteca chiedendo alle ragazze ma ce l'hai rasata o no farebbe magari un milione di visualizzazioni e vabbè non è quello che voglio fare sul canale almeno per il momento perché voglio parlare di argomenti che mi appassionano e che mi fanno scaturire un fuoco dentro no perché avere passione per quello che si fa penso sia uno degli obiettivi uno dei le forze motrici più forti per il successo comunque tutto qui adesso sto cercando una soluzione per sta cosa magari mettendo una scritta qua mettendola di là magari non mettendo nei tag o nel titolo una certa parola per cercare di bypassare l'algoritmo eccetera eccetera comunque per oggi è tutto a me non rimane che ricordarvi che quando si desidera ardentemente qualcosa essere avvolti dalle fiamme non è per così male di dare l'appuntamento al prossimo video e augurare di una giornata produttiva sto parlando veloce perché la telecamera mi si sta surriscaldando e dopo si spegne a caso e purtroppo a causa di questo problema mi tocca rifare il video tante volte infatti forse dovrei anche cambiare macchina fotografica che mi permette di fare video più lunghi invece questa no dopo 20 minuti si spegne no e per cui magari se faccio qualche prova si surriscalda e quando faccio il video reale anche se di 5-7 minuti mi si spegne sul più bello per cui vi saluto velocemente ciao ciao ciao